In prossimità dell'incrocio tra la via Andercolonade e la Wilhelmstrasse si innalzava un tempo il palazzo della Cancelleria del Reich. L'edificio barocco, raffigurato nel 1739, era stato acquistato su desiderio di Otto von Bismarck, in seguito alla fondazione del Reich. Da quel momento in poi fu la sede del Cancelliere del Reich tedesco anche ai tempi della Repubblica di Weimar. Per far fronte alla necessità acuta di spazi del gruppo di collaboratori, fino al 1930 fu costruito un sobrio ampliamento che si impegnava nelle forme della modernità conservativa. Hitler vi si trasferì provvisoriamente dopo l'ascesa al potere, in un lussuoso appartamento al quarto piano. In seguito visse nel palazzo. Successivamente l'intero complesso subì massivi ampliamenti e ricostruzioni. Nel 1935, secondo uno schizzo di Hitler, sulla facciata dell'edificio di ampliamento fu costruito il balcone del Führer della lunghezza di 10 metri. Da qui si mostrò volentieri al pubblico durante visite di Stato o parate di vittoria. Anche la Wilhelmplatz di stampo imperiale davanti alla Cancelleria del Reich fu ottimizzata nel 1936 per le dimostrazioni di massa. Agliole fiorite, sezioni di alberi e prati scomparvero sotto ripetitive piastre di granito. Nonostante queste misure, il complesso non corrispose mai alle pretese di rappresentanza di Hitler. Nel 1934 si iniziò a considerare di costruire una nuova Cancelleria del Reich, poi inaugurata nel 1939. La vecchia Cancelleria del Reich e l'edificio annesso subirono profondi interventi durante l'integrazione nell'enorme complesso edile. Alla nuova Cancelleria del Reich è dedicato un video a parte. Al di sotto della superficie dell'aria si svolsero anche eventi storici. Nella figura sono rappresentati in rosso due rifugi antiaerei. Quello, contrassegnato con uno, si trovava sotto alla sala del giardino del palazzo della Cancelleria del Reich e risale al 1935. Nel 1943, in seguito alla continua perdita della sovranità aerea su Berlino, fu collegato al nuovo complesso edile, contrassegnato con il numero 2 nel giardino della Cancelleria del Reich. Insieme formavano il cosiddetto Bunker del Führer, costituito da circa 30 stanze. A metà gennaio del 1945, i bombardamenti degli Aleati erano aumentati al punto che Hitler dovette lasciare definitivamente il palazzo della Cancelleria del Reich e alloggiare permanentemente nel bunker. Nelle settimane successive, gli Aleati avanzarono sempre più, mentre il dittatore estremato, 5 metri sotto la terra, protetto da 4 metri di cemento armato, farniticava su miracolose svolte di fortuna della guerra. Non prese in considerazione una resa. Tutte le energie vennero utilizzate per continuare fino all'ultimo uomo, una guerra già persa da tempo. La capitale del Reich, fortemente danneggiata dai bombardamenti, fu preparata ora freneticamente per la guerra urbana, ad esempio con barricate come queste a Hermannplatz a Neukölln. Il quartiere del governo fu barricato e addirittura al balcone del Führer dell'edificio annesso venne utilizzato come posizione difensiva improvvisata. Dall'ottobre 1944, la milizia popolare dell'ultimo schieramento era formata da uomini giovani e anziani. Queste reclute addestrate a malapena furono obbligate sistematicamente ad una morte eroica nella difesa della patria e, in seguito, mandate allo sbaraglio in operazioni militari senza senso. Con la decisione di combattere in zone urbane e densamente popolate, il regime nazionalsocialista accettò consapevolmente anche la morte di innumerevoli civili. La battaglia di Berlino fu condotta sul fronte alleato dall'Armata Rossa ed iniziò il 16 aprile 1945. Terminò il 2 maggio con la firma dell'ordine di resa da parte del comandante di battaglia Helmut Weidling. Secondo le stime, l'azione militare costò la vita 170.000 soldati, altri 500.000 furono feriti. Già prima che Berlino fosse completamente circondata, ci fu un movimento di ritirata verso ovest delle figure chiave del Terzo Reich, in parte con e in parte senza il permesso di Hitler. La foto mostra l'ammiraglio Dönitz durante una delle sue ultime visite nel bunker del Führer. Hitler si rifiutò tassativamente di lasciare la città e una ridotta cerchia di persone si raccolse intorno a lui fino alla fine. Tra queste il suo braccio destro Martin Bormann, la sua compagna Eva Braun e, dal 22 aprile, dopo che le unità sovietiche superarono il confine delle città di Berlino, il ministro della propaganda Goebbels con famiglia. Il 25 aprile la città era completamente circondata e quattro giorni dopo l'Armata Rossa avanzò nel quartiere del governo. Nella notte Eva Braun e Adolf Hitler si sposarono nel bunker e si suicidarono il 30 aprile. Le loro salme vennero bruciate nel giardino della cancelleria come precedentemente ordinato. I resti carbonizzati furono poi ricuperati dai soldati russi. Il primo maggio si suicidarono Joseph e Magda Goebbels, dopo aver ucciso i loro sei figli. Il luogo della morte di Hitler divenne meta di escursione delle potenze vincitrici. Nella foto è ritratto il primo ministro inglese Winston Churchill, il 16 luglio 1945. Un giorno prima dell'inizio della conferenza di Potsdam, si mette in posa su una sedia proveniente dal bunker del Führer. Nel 1947, pionieri sovietici tentarono di far saltare in aria l'impianto. Le torri di ventilazione e l'edificio di accesso caddero in pezzi. Le stanze del bunker rimasero intatte. In seguito ad ulteriori tentativi di esplosione senza successo, nel 1959 l'operazione venne abbandonata e i frammenti furono seppelliti sotto a tumuli ammucchiati. Tra il 1985 e il 1989, in occasione della creazione dell'odierna zona residenziale, la Repubblica Democratica tedesca fece dapprima di sotterrare il bunker e poi lo distrusse completamente. A questo punto vi saluto e spero che il programma vi sia piaciuto. Se è così, mi farebbe piacere una valutazione positiva del video. Grazie mille e arrivederci!